Buongiorno a tutti ben ritrovati ad Avanzi in Estetico. Oggi vi proporrò un intervento di aumento di volume delle labbra effettuato con un filler dedicato di nome RL che è una novità in campo estetico. L'intervento come vedrete è assolutamente in dolore per parte di anestesia infiltrativa locale. Ecco, l'intervento è appena finito, assolutamente in dolore. Questo è il risultato che è labbra voluminose, Avanzi in Estetico Lips.